La navicella lunare Slim del Giappone è a corto di energia dopo l'atterraggio lunare riuscito. Ecco le ultime novità dell'allunaggio dello Slim giapponese. Il video ci dice che il Giappone è diventato il quinto stato che ha inviato una navicella spaziale sulla Luna. Tuttavia la minaccia è che i suoi pannelli solari non sono in grado di generare elettricità, forse perché hanno un'angolazione errata. Stop! Questo non è un filmato, accidenti, è un'animazione generata dal computer, come questa. Chi cavolo avrebbe ripreso queste immagini? Sono cartoni animati. E cosa stanno facendo al centro di controllo? Facciamo uno screenshot. Cosa è successo ai computer? Sono tutti spenti. Quando dovrebbero essere eccitati per un evento così importante? Guardate questo signore, sta messaggiando col telefonino. Osservate, semplicemente questi grafici che ha davanti, unica prova dell'allunaggio. Magari si sta semplicemente addormentando per noia sul lavoro. Quindi computer spenti, persone mezza addormentate, e quelle non addormentate che stanno guardando schermi televisivi esattamente come quando guardiamo una partita di calcio o uno spettacolo televisivo. Ma qui stanno mostrando semplicemente dei ridicoli cartoni animati del secolo scorso di disegnini grafici con qualche immagine diversa da quelle trasmesse, come qui a sinistra. Mentre qui a destra altri dati sfocati. Sicuramente sono d'aiuto. Comunque sia, nella stanza di controllo sembra che non esista alcun interesse. Itoshi Kuninaka, capo del centro di ricerca, ha detto che JAXA ha dato priorità al trasferimento dei dati di Slim sulla Terra, poiché la sonda faceva affidamento solo sulla sua batteria che sarebbe durata alcune ore, nonostante i trattamenti di sostentamento vitale come lo spegnimento del riscaldatore. Ma come mai non abbiamo nulla di tutto questo? Nessuna immagine dell'allunaggio storico? O un video in alta risoluzione mentre si avvicina alla luna? I giapponesi dovrebbero essere i maestri della tecnologia. Ma non c'è una prova di tutto questo. E tutti i media diffondono questa notizia storica dell'allunaggio. Senza una vera prova. Solo immagini create con l'aiuto dei computer. Passerà un mese prima di poter ristabilire come rattrizzare lo Slim. Nel frattempo la gente avrà dimenticato tutto questo. Tenete a mente che vi hanno passato questo successo, ma dopo un mese vi racconteranno che le batterie sono morte. Ma ancora la propaganda continuerà a dire che è stato comunque un successo. Nel frattempo avrete dimenticato tutto quanto perché avranno continuato a stipare nella vostra mente un sacco di altre notizie. Tanto i credenti continueranno a credere a quello che i media e i libri di storia raccontano. Che la guerra del Vietnam è iniziata a causa dell'attacco del Golfo del Tonchino. Che l'uomo è andato sulla luna. Che le torri gemelle sono state abbattute da Bin Laden. Che esiste il riscaldamento globale. Che gli aerei rilasciano solo le scie di condensa. Che esistono gli alieni. Che i virus si spostano da una nazione all'altra alla velocità della luce. Che gli oceani si stanno innalzando. Ma per fortuna esistono migliaia di eredigioni che portano salvezza e pace anche se si continuano a fare le guerre fra gli uomini per la supremazia religiosa del credo nel proprio Dio. Prima di chiudere vi ricordo che collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram dove vi invito a prendere visioni delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato e buone cose a tutti e tutte.